Questo governo ha iniziato il suo percorso poco più di un anno fa. La bussola che orienta i nostri passi è il programma che è stato votato ovviamente dai cittadini, un programma di visione di lungo periodo che noi vogliamo portare avanti e attuare in questi cinque anni punto per punto. Un programma che punta a rendere l'Italia più competitiva, più forte, più apprezzata nel mondo, più orgogliosa e consapevole di se stessa. È un obiettivo ambizioso certo, lo so, ma nessuno meglio di chi fa impresa sa come non ci sia niente di impossibile se nel lavoro che si porta avanti ogni giorno ci si mette la passione, la determinazione e il coraggio. E forse anche un pizzico di follia. Voi questo lo sapete bene, quindi forse anche da voi dobbiamo prendere un po' di esempio nel lavoro che facciamo tutti i giorni. Voi intanto continuate a dare, come sempre, il meglio di voi e troverete a fianco un governo capace di sostenere quel lavoro, di sostenere quella visione, di sostenere quel pizzico di follia e di sostenere così la nazione nel suo complesso.